Tutto rinviato a novembre per un difetto di notifica. Era in calendario per oggi presso la Corte d'Appello di Firenze la prima udienza per il processo appunto d'appello a carico degli ex vertici di Banca Etruria condannati in primo grado con rito abbreviato per bancarotta fraudolenta e semplice. Si tratta di Giuseppe Fornasari ex presidente di Banca Etruria, Luca Bronchi ex vicepresidente, un altro ex vicepresidente Alfredo Berni e l'allora membro del CDA Rossano Soldini. Un difetto di notifica ha determinato il rinvio dell'udienza il 10 di novembre ma per due dei quattro imputati si profila un concordato sui motivi in appello. Scelta difensiva di Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi. Ne ha dato notizia il procuratore della Corte d'Appello in Camera di Consiglio. Con il concordato le due parti, prima ancora dell'inizio del dibattimento in appello, possono accordarsi sui motivi. Se tutto andasse a buon fine, quelle per Fornasari e Bronchi sarebbero le prime condanne definitive per il crack di Banca Etruria. La sentenza di condanna in primo grado, pronunciata dal GIP Giampiero Borraccia nel 2009, era di cinque anni di reclusione a carico dei due. Se questa procedura di concordato dovesse andare a buon fine, commenta un ex risparmiatore, Angelo Caramazza, anche parte civile, difeso dall'avvocato Lorenzo Calvanese, finalmente dopo sei anni, dice, avremmo individuato i responsabili del crack della banca. Un danno per noi ma anche per l'intera città. Il processo in appello andrà comunque avanti per Rossano Soldini e Alfredo Berni che punteranno alla soluzione.